Musica Impegno civico è la lista che ha amministrato Romagna in questi ultimi 5 anni. La parola chiave del nostro gruppo in vista di queste nuove azioni è stata rinnovamento, un rinnovamento a nostro avviso indispensabile per abbandonare quella logica di contrapposizione che in questi ultimi anni ha caratterizzato negativamente la vita amministrativa e non solo del Paese. Per questo motivo abbiamo deciso di presentare una lista di candidati composte in gran parte da persone nuove dal punto di vista amministrativo, ma che da tempo però per il nostro Paese sono già impegnate su più fronti, persone concrete che prima di promettere preferiscono entrare nel problema ed analizzarlo, in modo da risolverlo anche per il bene a collettività. La nostra unica promessa è che se la nostra cura interessarsi in modo approfondito e senza pregiudizi di tutti i problemi, siano questi di singoli cittadini, di commercianti, di associazioni o di qualsiasi altra attività presente sul territorio, siamo pronti a metterci al servizio del Paese, con quel forte entusiasmo tipico di chi si trova per la prima volta ad affrontare una nuova esperienza. Ecco per che votarci. Grazie.